Nella giornata di ieri è stata una domanda che mi è stata posta, devo dire che è una stessa domanda che mi è stata posta una quindicina di giorni fa, sul tema dei negozi e dei prezzi. Innanzitutto ci tengo a precisare che non l'ho fatto ieri e quindi magari dovevo farlo, è stata una mancanza mia, che da parte di questa giunta provinciale, da parte del Presidente della provincia autonoma di Trento c'è una forte consapevolezza del valore della cooperazione nella nostra società trentina. Lo dicevamo prima di diventare organo di governo, lo diciamo dopo e lo diremo più avanti. Sappiamo quanto importanza è il tema della cooperazione nell'economia nella società trentina. Sappiamo quanto è importante il tema dei multiservizi, questa giunta provinciale aveva già messo, aveva ampliato le risorse che erano già messe a disposizione precedentemente. Sappiamo qual è il valore sociale di questi esercizi commerciali, qui all'inizio di questa emergenza ne abbiamo parlato più volte e quindi siamo consapevoli di questo. Personalmente io sono socio di tre cooperative, lo dico perché voglio anche che sia chiaro, io mi recco ad un multiservizi, personalmente mi succede anche spesso, ad un multiservizi di Vos Sinistro di Avio con la tessera da socio, perché io sono socio della famiglia cooperativa, sono socio della cantina sociale e sono socio della Casa Lurale, quindi non viviamo sulla luna, sappiamo benissimo questo. Quindi ciò che volevo veramente chiarire è che noi sappiamo la consapevolezza soprattutto di chi lavora in prima linea, cioè le persone che hanno permesso di portare avanti i generi alimentari in generale, siano essi della cooperazione e anche non della cooperazione, nel momento strategico e difficile di questo periodo ne siamo consapevoli, quindi se le mie parole fossero state intese male di questo ne prendo atto. Siamo consapevoli di quanto è importante il lavoro di chi vive, di chi lavora negli alimentari in questa fase, ma soprattutto anche nella fase iniziale quando il contagio era forte e quindi c'era anche un rischio personale. Noi però il 30 aprile, 31 marzo scorso, abbiamo firmato un protocollo tra la provincia autonoma di Trento, la federazione trentina della cooperazione, il site e il DAO. Un protocollo che ne abbiamo parlato tante volte in questa sede, io ne ho parlato più volte, che voleva mettere al centro l'importanza di questi negozi multiservizi. Ne abbiamo anche pensato come giunta provinciale, visto il momento attuale, di ampliare anche l'eventuale finanziamento su queste finalità. Questo protocollo diceva di mantenere costante il flusso dei rifornimenti all'interno dei punti vendita, perché sapete c'era la carenza di prodotti, di assicurare che i prezzi applicati su tutta la rete vendita di riferimento non avessero subito aumenti nelle settimane precedenti e di impegnarsi ad attivare iniziative commerciali che favoriscono il consumo di prodotti locali, sottolineando anche con apposite campagne informative questa specificità e rafforzare, ove possibile, politiche commerciali favorevoli a cittadine e famiglie. Da parte nostra in queste settimane abbiamo avuto modo di avere diverse segnalazioni che ciò non sarebbe avvenuto. Personalmente, io che mi recco nel negozio e punto vendita mio, io questo non l'ho visto, ho visto che c'è stata una forte attenzione, ma questo vale per dove conosco io. In generale qui sono arrivate diverse segnalazioni. Allora, noi oggi abbiamo avuto modo di interloquire con i soggetti interessati, da parte loro c'è stata garantita e noi qui non la vogliamo minimamente, anzi lo comunichiamo, che questa forte attenzione alle politiche commerciali, all'attenzione dei prezzi, all'attenzione della spesa della famiglia c'è stata e ci sarà. E quindi noi non abbiamo modo di smentire quello che nella giornata di oggi ci è stato riferito. Noi abbiamo firmato questo protocollo, la nostra intenzione è di rispettarlo il più possibile e quindi magari con le apposite campagne informative che possono aiutare, alcuni lo hanno fatto, diciamo facciamolo tutti perché allora passa anche un messaggio giusto sugli utenti e sui consumatori, perché dobbiamo cercare di veicolarle l'importanza di queste reti di vendita di cui la giunta provinciale è completamente consapevole. Quindi ci sono da fare le giuste campagne informative, come oggi abbiamo capito dall'interlocuzione che abbiamo avuto, le si deve fare perché il cittadino deve essere consapevole sempre di più, anche chi non andava prima in quei negozi, di poterci andare anche dopo, perché questa è la scommessa che credo dobbiamo avere tutti, poterci andare anche dopo per capire quanto siano importanti questi servizi per una comunità che deve crescere e che li deve mantenere sul loro territorio.